Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi spieghiamo come inserire le batterie in questa lente che ingrandisce 8 volte, ha un reticolo del 0,1 e un sistema anulare di illuminazione a led, quindi permette osservazioni precise e misurazioni precise. Questo è l'interruttore. Ora bisogna girare in senso anti-orario la messa a fuoco deve essere in posizione alta. Quando abbiamo girato tutta la messa a fuoco tenendo fissa la messa a fuoco, blocchiamo sulla base la parte in basso, giriamo in senso anti-orario, c'è un filetto e adesso qui è aperto. La struttura in basso è dove abbiamo l'illuminazione. Inseriamo le batterie, sono 4 batterie, in questo caso utilizzo le batterie con codice AG9, che si possono trovare, si trovano facilmente, e ogni batteria, le batterie hanno il più, il più e la parte sopra, e va inserita all'interno, verso l'interno della struttura. Quindi mettiamo, ecco qui stiamo accendendo, questo è un interruttore, quindi possiamo avere l'illuminazione sempre accesa oppure spenta. Adesso qui stiamo riavvitando il filetto. L'abbiamo svitato in senso anti-orario, ecco qui la lente è pronta per essere utilizzata. Buone osservazioni con questa lente di ottima qualità. Vi aspettiamo per il prossimo video e vi chiediamo di iscrivervi al nostro video. Grazie, buona giornata. Grazie. 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 Grazie.